L'emozione è tantissima, non vediamo proprio l'ora di iniziare, siamo veramente tutti quanti molto motivati, non vediamo l'ora di iniziare questo cammino e di arrivare il più lontano possibile. Gli obiettivi sono molto importanti anche perché un po' che la National R21 non raggiunge questi obiettivi, quindi siamo davvero molto motivati. Sicuramente il gruppo è ben saldo, abbiamo avuto anche la fortuna di essere aiutati da giocatori che erano già in nazionale maggiore, il gruppo non manca di certo e dovremo solamente far parlare il campo. L'emozione penso sia tantissima, penso sia allo stesso modo importantissimo fare bene per tutti noi perché sappiamo l'importanza di un europeo, non si giocano spesso, in più c'è anche la qualificazione tra i primi quattro alle Olimpiadi, quindi è importantissimo. Mi sento di sbilanciarmi un po' per questo gruppo perché penso siano tutti dei ragazzi straordinari e che credono molto in quello che fanno. È una manifestazione che ci siamo guadagnati, ce la siamo guadagnata bene, è una manifestazione molto complessa, molto stimolante, quindi siamo molto felici di essere qui, speriamo di fare un buon lavoro. L'obiettivo è quello di fare del nostro meglio, speriamo che anche in questa ci dia soddisfazione, ci porti a vivere delle emozioni importanti. Certamente il gruppo è complesso, di alto valore, con squadra di alto valore e quindi ci metteremo la prova. Lo aspettiamo da parecchio tempo, non vediamo l'ora che arrivi, è stato lungo questo percorso, è stato lungo questi giorni, questi allenamenti che precedono all'inizio europeo, però veramente c'è tanta emozione perché era il nostro obiettivo arrivarci così, perché stiamo bene, siamo un grande gruppo, quindi adesso bisogna solo andare a giocare. Sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare, non credo come non si possa arrivare sicuramente a giocarsi uno dei posti per le Olimpiadi, credo che sia fondamentale più che importante perché il giorno è difficile, sono tutte squadre forti, tanti giocatori che hanno già giocato il nazionale maggiore, che giocano nei campionati maggiori, quindi sarà difficile, però sicuramente è una cosa da fare e ne dobbiamo farla, quindi proveremo in tutti i modi a farlo il prima possibile e magari già lo vedremo durante la prima partita. Grazie a tutti!